Un luogo in cui l'attenzione ai temi sociali e ai soggetti deboli si concretizzerà in azioni concrete, in cui grazie alla comunità e agli imprenditori locali si rinsalderà il legame fra l'area metropolitana torinese e le vallate alpine. Uno spazio in cui l'approccio metromontano dell'attuale amministrazione della città metropolitana di Torino si concretizzerà in progetti di cura delle persone, istruzione, formazione, accoglienza turistica attenta all'ambiente. Queste le idee illustrate ad Usseglio durante la presentazione del progetto di recupero delle casermette Rocciamelone, elaborato nell'ambito del progetto Interreg Alcotra 2014-2020 Social Lab. Lo studio di fattibilità del recupero del complesso che ospitava sino a una quarantina di anni orsono la Guardia di Finanza è uno dei 45 progetti selezionati da una commissione tecnica istituita dalla città metropolitana per definire la ricaduta delle risorse della missione 5 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La presentazione di oggi è il frutto di un lavoro di mese di concertazione tra attori diversi, tra portatori di interesse, su quelle che possono essere le attività che possono essere ospitate in questi spazi che devono rinascere. Quali sono queste attività ipotizzabili nell'ex casermette? Allora, diciamo che il lavoro è durato ben oltre due anni e le attività si è deciso di dare un taglio sociale, ma sociale non soltanto di sostegno, ma come? Il sociale può diventare impresa e quindi con attività che sono si volte alla persona, ma alla persona cercando di dare una risposta a dei bisogni reali, quindi alle persone più legate a un ambito di disagio sociale, economico, di disabilità e non solo, anche alla formazione, all'wellness, al benessere psicofisico, cioè il benessere della persona e l'individuo è al centro del progetto ed è esaminato a 360 gradi. Professor De Rossi, lei oggi ha fatto l'esempio di Ostana, se questo esempio di usseglio funzionerà diventerà un Ostana 2, cioè può insegnare ad altri territori a riallacciare il rapporto tra aree urbane e montagna? Indubbiamente, noi crediamo molto a questa valenza sperimentale di laboratorio di futuro in un'ottica appunto metromontana per questo progetto delle casermette di usseglio. C'è sicuramente la possibilità in questo territorio proprio perché questo progetto nasce da una costruzione di una coalizione che ha messo insieme tantissimi soggetti, il comune, la città metropolitana, le unioni montane, il GAL, il Politecnico di Torino, l'università e noi crediamo che questa sia la dimensione oggi giusta per pensare a dei progetti con valenza strategica per la montagna, una montagna che inizia a pensarsi in un altro modo, non più solo una montagna isolata, giustamente orgogliosa, ma una montagna che costruisce collaborazioni, costruisce progettualità di natura strategica per lo sviluppo dei territori. Noi crediamo tantissimo in questa cosa, in fondo il Piemonte ha sempre funzionato storicamente in questo forte intreccio tra le parti più urbane, metropolitane e le realtà dei pedemonti e delle vallate alpine e questo è dalla possibilità di una costruzione di una nuova visione culturale, ma anche di una costruzione di nuove opportunità economiche di abitabilità di questi territori. Quindi noi crediamo che il progetto delle casermette di Lusselio possa essere davvero un luogo dove sperimentare questo nuovo modo che in fondo è anche molto antico di pensare al nostro territorio piemontese.